Amici caravalloni, buongiorno e bentornati sul nostro canale. Oggi è un video un po' diverso, perché? Perché ho l'occasione di avere in casa, infatti sono in pronta consegna, due ecovip molto simili e quindi voglio farvi vedere le differenze tra questi due modelli. Sono due semi integrali da 7 metri e il modello preciso sono L3009 e L3019 e poi ne parliamo insieme. Beh, come vedete esteticamente ovviamente non cambia nulla, sono entrambi due bellissimi semi integrali da 7 metri con i letti gemelli. Il garage è abbastanza uguale, l'unica cosa che nel L3019, quindi nel veicolo che troviamo a sinistra, è leggermente più piccolo la parte interna, perché nella parte appunto dove escono i serbatoi arriva a 97, mentre invece nel L309 ha 102, però appunto sono davvero una differenza minima. Come vedete è un veicolo di ottima qualità, a prescindere dalla tipologia, perché troviamo il doppio pavimento con tutti gli impianti in posizione antigelo. Una delle differenze estetiche che possiamo notare da subito è questo sportellino del doppio pavimento, nel L309 è un po' inutile, mentre invece il L3019 è utilizzabile. Mentre invece in questa parte troviamo tutto l'impianto elettrico e in entrambi diciamo che lo spazio non varia. Qui all'interno vediamo appunto tutto il doppio pavimento utilizzabile, di per sé più un doppio pavimento per coibentazione, però eventualmente qualcosa ci sta. Ma iniziamo a vedere le vere modifiche. Allora, a destra troviamo il L309, che è quindi una piantina con la cucina entrando subito sulla sinistra lineare, mentre a sinistra abbiamo il L3019, che è un veicolo che ha da un aggiorno più grande. Il bello del punto del L309 è, secondo me, che è un veicolo un po' più arioso, perché non ha il blocco bagno subito entrando e quindi la prima sensazione è quello di spazio. Non fate caso al tavolino, perché in questo caso vediamo quello di serie che è quello tondo, ma quello a destra è quello a libro. Eventualmente anche nel L3019 si può avere il tavolino quello a libro, oppure nel L309 avere quello tondo, come preferite. Anche la tapezzeria è variabile, in questo caso nel L309 vediamo questa bellissima tapezzeria chiara, che renda ancora più luminoso, mentre invece nel L3019 è quello di serie. Però, appunto, non preoccupatevi, si può eventualmente cambiare. Entrambi li vediamo con il mobiglio quello di serie, il Rovarea e Mocha. Sul L3019 forse lo scuro risalta di più, perché entrando ho subito la parete del bagno e quindi probabilmente sembra più scuro, ma vi garantisco sono uguali, identici. Parlando di zona giorno, vi dico anche delle informazioni sul letto basculante elettrico, che vi ricordo che è un optional per tutti i Laika. Nel L3019 è un pochino un po' più grande. Ovviamente perché? Perché la zona giorno è un po' più grande. Infatti nel L3019 siamo a 1,86 per 1,39, mentre nel L3019 sono 1,86 per 1,21 con una piccola rientranza ad un metro. Eventualmente c'è sempre la possibilità di acquistare anche il kit per fare il letto in dinette. Diciamo che con un letto basculante mi sembra un tantino un po' forzata come cosa. Comunque qui vediamo i due tavolini, quello di serie tondo, quello invece rettangolare che è un optional. Quindi a seconda della vostra scelta vi ricordo che se ordinate il camper con il tavolo di serie arriva quello tondo. Se invece prendete l'optional potete avere anche questo che è pieghevolo molto ampio e comodo. In questa foto vediamo appunto la maggiore grandezza della zona giorno del 3019. Infatti come vedete quel divanetto a destra nel 3019 è un po' più grande, è un po' più spazioso. Perché il 3019 recupera spazio grazie ad il bagno. Passiamo ora alla zona giorno, più precisamente per la cucina. Nel 3019 abbiamo una cucina a L con due lavandini che eventualmente uno si può utilizzare anche come sgocciolatoio. Mentre nel 3019 la cucina è classica lineare. Per entrambi il fornello è uguale, quindi un fornello da tre fuochi. Però nel 3019 lo spazio è maggiore per quanto riguarda il piano di lavoro. Per quanto riguarda la capacità di carico non varia più di tanto. Diciamo che sono due tipologie diverse. Perché nel 3019 troviamo questi bei cassettoni che chi mi segue da un po' sa che mi preferisco. Però nel 3019, scusatemi, c'è comunque il carrellino con la parte, appunto, diciamo la penisola della L che viene in avanti. Che quindi lo spazio comunque non vi manca. La parte posteriore sono entrambi, ovviamente, come vi dicevo, letti gemelli. Qui c'è un pochino di differenza. Perché? Perché nel 3019 i letti posteriori sono quello destro un po' più lungo, arriva fino a 1,93 per 82. Mentre il sinistro 1,91 per 82. Nel 3009, invece, sono a 1,97 per il destro. E l'altro, il sinistro, a 1,92. Nei letti gemelli, solitamente, c'è sempre un letto leggermente più lungo dell'altro. In modo da permettere anche l'utilizzo anche alle persone un po' più alte. Perché si cerca di avere sempre almeno un posto letto, che non dico arrivi ai due metri, però, che ci si avvicini. Non cambia, invece, la parte, appunto, degli armadi. Perché, appunto, la differenza di lunghezza non è grandissima. E quindi, appunto, gli armadi sono uguali. L'ecovip ha, appunto, questa tipologia di armadi sotto al letto, che non si alza, come su altri veicoli, la rete del letto. Però ci sono questi cassettoni che escono da destra e a sinistra la sbarra per appendere che esce. E quindi, appunto, non bisogna sempre, diciamo, chinarsi per prendere la roba, ma esce direttamente il cassettone. I due gradini, anche, che in questo caso nelle foto li vedete che sono chiusi, in realtà ci sono, si possono, si aprono e si chiudono a seconda del, appunto, del bisogno. Anche qui sono altri cassettini. I letti gemelli, ormai, non lo sto a dire, per me penso sia la tipologia di letto più comoda che ci sia. Perché recupera comunque spazio, perché, guardate, comunque di spazio ce n'è, perché i mobiletti sopra sono raggiungibili. Questi sotteletti sono anche molto comodi. Ma poi, diciamo che per qualunque problema fisico che uno possa avere, che sia un problema alle ginocchie, che sia un problema alla schiena, o banalmente poca voglia di scavalcarsi, i letti gemelli sono comodi, poi è un materasso unico rispetto a un eventuale letto in dinette. Quindi io lo appoggio e lo appoggerò sempre. Inoltre, ti permettono di avere comunque un bel garage fisso, però comunque spazioso, anche portamoto. Veniamo ora al bagno. Qui sicuramente ci saranno alcuni che ne diranno di ogni per il bagno del 3019. Ma secondo me non è così scomodo come si pensa. Infatti nel 3019 c'è il bagno vario. Nel 3019 come anche il 3010, ad esempio, quindi quello con letto trasversale. Il bagno vario praticamente si raccaratrizza da questa parete dove c'è il lavandino che si può chiudere sul WC e quindi si forma una doccia grande. In questo modo recuperano lo spazio della doccia che per tanti camperisti è inutile perché chi si va ad appoggiare, ad esempio, a delle strutture, il più delle volte se si deve fare la doccia utilizza semplicemente la doccia del campeggio, della struttura. Ed è proprio in questo modo che loro hanno recuperato lo spazio per avere una zona giorno un po' più vivibile rispetto a quella appunto del 3009. Invece nel 3009 troviamo un bagno un po' più classico. Per di più qui c'è anche, ma in tutte e due c'è la possibilità di chiudere la zona giorno con la zona appunto notte utilizzando la porta del bagno e hanno creato per entrambi i modelli una porta diciamo sostitutiva. Quello che cambia è che nel 3009 il lavandino del bagno è un po' più piccolo rispetto a quello del 3019 perché ovviamente la doccia occupa il suo spazio che però dall'altra parte rende il bagno più grosso e vivibile. Alla fine, si sa, ormai lo sapete, il camper perfetto non esiste. Infatti su questi mezzi vediamo davvero come stessa lunghezza, stessa grandezza, dimensione e tutto il resto, qualche cosa cambia modificando ovviamente altro. Il 3009 quindi quello ha la cucina più piccola però forse è più arioso. Il 3019 è un po' più chiuso soprattutto in questa zona qua però ha una zona giorno più grande, un po' più grande, non esageriamo più grande, un pochino un po' più grande. La tv ad esempio nel 3009 si può mettere anche il 32 pollici, qua invece è da mettere attaccato alla porta e sinceramente a me personalmente tipo il bagno piace un pochino di più questo. E' un bagno vario, un bagno difficile da, cioè per il mercato italiano è difficile da forse capire però ad esempio i tedeschi lo utilizzano molto e secondo me aiuta proprio a recuperare spazio e si sa nei nostri camper. La cosa più importante è sempre recuperare spazio. Allora ditemi quale preferite, vediamo un po', facciamo un po' un sondaggino così vediamo quale dei due preferite. Vi ricordo che saremo aperti domenica 24 marzo e domenica 14 aprile, al pomeriggio probabilmente dalle, penso dalle due alle sei. Comunque se seguite il nostro sito e i nostri social sicuramente vi metteremo dettagli, promozioni, probabilmente faremo anche delle promozioni sul nuovo e sul market. Per il resto al prossimo video, se vi è piaciuto ovviamente seguitemi, iscrivetevi al canale e tutto il resto, ciao!